Claudia Bolbociano, coautrice del libro Le Catacombe della Romania, presente oggi al Book City a Milano. Claudia, parlami di questa tua collaborazione per questo libro. Allora io collaboro da anni, dal 2012 con il Centro Culturale Italo-Rumeno e Violetta mi ha appunto chiesto di partecipare, di collaborare con la documentazione e con la scrittura di questo libro. E a me ha fatto tanto piacere perché sono nata nell'85 e ho la mamma italiana e il papà rumeno, quindi conosco poco della storia. E quindi è stata una scoperta anche per me perché ho imparato tante cose, mi sono anche emozionata. E a me piace tanto il rumeno perché comunque è la mia prima lingua, lo parlo, sono bilingue. Ed è stato appunto bello scoprire cose nuove e venire a contatto con queste personalità così forti che comunque non sono conosciuti per niente tra i ragazzi della mia età. E un po' perché siamo pigri diciamocelo un po' perché comunque non l'abbiamo vissuto perché nell'89 quando è caduto il corrato appunto eravamo piccolini perciò non abbiamo vissuto, io almeno parlo al plurale anche per i miei piccoli età, non abbiamo vissuto sulla nostra pelle il comunismo. E quindi sono contenta di aver contribuito e egoisticamente di aver imparato anche tante cose nuove. Oltre a questo libro qua stai preparando qualcos'altro che riguarda proprio la Romania? No, non sto, io sono giornalista pubblicista e lavoro, sì, faccio traduzioni e scrivo, mi occupo dell'ufficio stampa di Redi Viva Edizioni. Però per il momento no, magari più tardi, più avanti, sì, volentieri. Grazie, grazie. E mini bocca al lupo per le tue iniziazioni. Grazie, ciao. Grazie.